Inter, Balotelli difende Lukaku, il messaggio dell'attaccante. Continuano a far discutere gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku dopo il gol del pareggio in Juventus-Inter. Semifinale d'andata di Coppa Italia. Nelle ultime ore anche Mario Balotelli ha detto la sua sull'episodio. Juve-Inter, il messaggio di Lukaku per Balotelli l'attaccante del Sion, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. Ha mostrato il proprio supporto nei confronti del numero, 90, Nerazzurro. Balotelli ha infatti pubblicato il video degli insulti razzisti. Taggando l'Inter e Lukaku e aggiungendo le mohi del pugno. Un nuovo messaggio di solidarietà che si aggiunge ai tanti ricevuti dal belga nelle ultime ore.